Si riaccendono i riflettori sul caso di Guerrina Piscaglia, la casalinga di Caraffello scomparsa il 1 maggio 2014. Torna infatti a riunirsi venerdì 30 settembre la Corte d'Assise per il processo a padre Graziano, il frate congolese accusato di aver ucciso la donna e di averne occultato o distrutto il cadavere. Sarà il momento della requisitoria del PM Marco Dioni che ha redatto 150 pagine e previsto 6 ore di esposizione al termine delle quali ci sarà la formulazione delle richieste di condanna. Fulcro dell'impianto accusatorio rimane l'utilizzo del cellulare della casalinga da parte di padre Graziano. Secondo l'accusa infatti sarebbe stato proprio il religioso ad inviare sms dal telefono di Guerrina il pomeriggio della scomparsa e nei giorni a seguire. Una requisitoria fiume dunque nella quale saranno presi in esame tutti gli elementi raccolti e nel corso delle indagini saranno nuovamente illustrati tutti i dettagli emersi fino ad oggi. Sarà poi il turno nelle udienze successive delle parti civili e della difesa dell'imputato. Intanto il religioso è tornato a parlare ai microfoni della trasmissione porta a porta rispondendo sicuro a tutte le domande della giornalista che lo incalzava, affermando ancora una volta di non aver mai avuto rapporti di tipo sessuale né con Guerrina Piscaglia né con le altre donne. Quello che hanno detto su di me sono solo calugna, ha commentato il frate riferendosi alle dichiarazioni di alcune prostitute che sostengono di aver avuto rapporti con lui. Ma è stata la presunta gravidanza della casa Ling il cuore del dibattito affrontato nel salotto della trasmissione, portando così nuovamente all'attenzione nazionale il caso di Guerrina Piscaglia alla vigilia di un'udienza decisiva.